A te che sei lontano dalla mia normalità, a te che sei vicino a quella vita che se ne va. Quando tornerò è il titolo di questo brano emozionante, composto da Rossano e Leuteri, in collaborazione con Ursind, sindacato delle professioni infermieristiche. Il videoclip è dedicato a tutti gli operatori sanitari che con il loro lavoro e la loro dedizione si trovano a dover combattere un mostro invisibile e sconosciuto come il Covid-19, mettendo a rischio la propria vita. Azzurro come il cielo che assomiglia a quella parte di un'umanità invisibile Quando tornerò ti chiederò di perdonare chi non ha capito Forse per l'avidità dell'uomo che si perde nel denaro Un'idea nata proprio dall'autore Rossano e Leuteri Il quale, avendo familiari che operano all'interno del settore sanitario, vive i racconti dei suoi cari e comprende i loro timori Ma anche il loro coraggio nell'affrontare una professione che troppo spesso non li fa sentire al sicuro Perdonate chi non avrà mai la faccia di doverlo dire Che con l'incoscienza solo partorito la certezza di morire